Pico Profit per l'apertura di mezzanotte di GameStop, questa sera ci sarà il lancio della PS4 e andiamo ad acquistarla, tutto per il lettore di beavers.it, no perché la voglio per i fatti miei, ci mancherebbe altro, siccome un pochettino presto ce ne andremo a fare un round dello sport irlandese per eccellenza che è prenderci una binta al pub, quindi ragazzi ci rivediamo dopo, saluti! Pico Profit per l'apertura di GameStop, siamo riusciti a fare l'acquisto ieri sera, stiamo quindi aprendo la confezione in prima mattinata, vediamo un pochettino di cosa c'è dentro, se riusciamo a toglierla dal Ok, sensibilmente più piccola della Xbox One, molto più piccola della Xbox One, confezione su un piano solo, abbiamo la macchina Il gioco, apprezzato che diano il gioco nella confezione Blu-ray e non solo il codice per scaricarlo come l'Xbox Manuale di istruzioni, controller, uno solo Cavi misti e assortiti, includono l'HDMI, voglio controllare se l'HDMI questa volta funziona quello generico, se come l'Xbox One ha bisogno del suo Oh, cuffie! Non sapevo le mettessero, beh, più un auricolare, una cuffia Non lo so, non sono ancora convinto della forma della console È decisamente più giocattolosa della Xbox One, che sembra più un apparecchio multimediale Eh, però è bella, dai Bene, e mi monto anche questa e comincio a giocare Ciao a tutti!